Perché il processo di validazione del progetto è così importante e quanto in percentuale viene applicato in Italia? La verifica del progetto è la base per garantire il successo del progetto. Quindi quello che la legge sui lavori pubblici già dal 94 prevede come obbligo per il responsabile del procedimento di verificare prima di appaltare i lavori, il progetto in tutti i suoi aspetti, è un obbligo che esiste appunto al 94. Il dato storico che noi abbiamo raccolto in tutti questi anni è che ad oggi, nonostante siano passati quasi 30 anni, l'applicazione della legge è solo parziale, nel senso che solo il 10% dell'insieme dei vari interventi che vengono fatti per le opere pubbliche viene effettivamente verificato prima di avviare i lavori. E questo crea dei grossi problemi, infatti le opere si bloccano, i progetti sono assolutamente inadeguati se non verificati e quindi poi ci sono blocchi, ci sono contenziosi, ci sono costi che aumentano e tempi che si allungano e questo è il risultato della non verifica. Quindi il dato oggettivo è che quando si fa la verifica del progetto, la probabilità che si porti fino in fondo nei tempi e nei modi, quindi la qualità e i costi, vengano rispettati, è una garanzia piuttosto elevata come percentuale. Perché c'è questa mancanza? Beh, è una mancanza di tipo culturale, in primis, e poi c'è proprio una non considerare questa necessità come prioritaria rispetto al successo dell'iniziativa. Quando abbiamo verificato i vari progetti che abbiamo controllato nella nostra storia, parliamo delle Olimpiadi di Torino 2006, Expo, più recentemente il Ponte di Genova, il nuovo progetto, le opere si sono realizzate nei tempi, con i costi e con la qualità che doveva essere garantita. Quindi su questo c'è poco da dire e si salta solo di convincere le committenze a utilizzare le norme, applicarle e a farsi affiancare fin dall'inizio, fin dalla fattibilità, da organismi accreditati, come appunto la nostra società Conteco è stata la prima in Italia, secondo la norma ISO 17.020, da Accredia, che è l'organismo di accreditamento che noi abbiamo in Italia. Quindi su questo non ci sono molte regole da inventare perché ci sono già, bisogna applicarle.